Tre discariche di rifiuti pericolosi sono state sequestrate nei pressi del polo chimico di Bussi sul Tirino nel corso di un'operazione congiunta del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara del Corpo Forestale di Pescara e Tocco da Casauria. Le tre discariche per una superficie di 55.000 m2 furono sequestrate una prima volta nel 2007 e sono oggetto del processo sulla mega discarica di Bussi in discussione proprio in questi giorni presso la Corte d'Assise di Chieti per le ipotesi di disastro ambientale e avvelenamento delle acque destinati ad uso potabile, 19 gli imputati che saranno giudicati con il rito abbreviato puro. L'indagine, coordinata dalla Procura di Pescara, conta 8 indagati e mira a far luce sulla mancata messa in sicurezza delle tre discariche imposta dal Ministero dell'Ambiente e volta ad impedire il contatto fra le discariche inquinanti con le falde freatiche e le acque fluviali. Omissione che potrebbe comportare, come specificato nell'ordinanza del GIP, il perseverare degli effetti di precipitazione e di percolamento di rifiuti già interrati nelle discariche, con conseguente pericolo per l'ambiente e la salute pubblica. Per questo motivo, oltre al reato ambientale, è contestato anche il reato di disastro ambientale colposo. Sul nuovo sequestro è intervenuto il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua. Abussi e in Val Pescara basta temporeggiare, si legge in una nota. Serve avviare la bonifica senza se e senza ma. La notizia è stata commentata anche dalla Solvay, che dichiara completa estranetà ai fatti imputati e agli avvisi di garanzia per omessa bonifica, che vede coinvolti alcuni propri manager. Solvay non è minimamente responsabile dell'inquinamento pregresso e da quando è partita l'emergenza ambientale nel 2007 nell'area di busi sul Tirino, ha da subito collaborato con gli enti e le forze di investigazione. Solvay, puntualizza la nota, è stata riconosciuta parte civile e non è imputata nel processo ambientale in corso presso la Corte di Assisi di Chieti, che cita invece in giudizio a Montedison come unico responsabile.